Grazie a tutti. Stiamo dedicando alla conoscenza, all'approfondimento dell'esortazione apostolica di Papa Francesco a Moris Letizia sul matrimonio e sulla famiglia. Nelle prime due puntate abbiamo presentato così il quadro generale del documento di Papa Francesco e poi nella seconda puntata, quella precedente, abbiamo presentato il primo capitolo, quello nel quale il Papa si sofferma sul fondamento biblico del matrimonio e della famiglia, quindi getta uno sguardo sulla Sacra Scrittura, sulla rivelazione biblica. Cominciamo a vedere in questa terza puntata, dico cominciamo a vedere perché dedicheremo due puntate a questo tema, il secondo capitolo che è intitolato La realtà e le sfide delle famiglie. Perché è importante questo secondo capitolo? Perché dopo essersi posto in ascolto della parola di Dio, il Papa intende porsi in ascolto della realtà attuale, perché è chiaro che poi la verità biblica, il messaggio della Sacra Scrittura, debbono confrontarsi e calarsi nelle realtà attuali, anche al fine di vedere quelle che il Papa stesso chiama le sfide che la cultura di oggi pone all'azione pastorale della Chiesa nel campo del matrimonio e della famiglia. Naturalmente questo secondo capitolo è, dicevo, particolarmente denso, particolarmente ricco e noi quindi vedremo soltanto in estrema sintesi alcuni dei contenuti di questo capitolo. Il primo nodo problematico individuato dal Papa Francesco nella cultura attuale o nelle diverse culture attuali è quello, dice il Papa al numero 33, di un individualismo esasperato. Leggo le parole del Papa. Un individualismo esasperato che snatura i legami familiari e finisce per considerare ogni componente della famiglia come un'isola, facendo prevalere in certi casi l'idea di un soggetto che si costruisce, secondo i propri desideri, assunti come un assoluto. Mi sembra che questo numero 33 sia particolarmente importante perché fa quasi una fotografia di quello che è uno dei malesseri più diffusi del nostro tempo. Isole, individui. Spesso le coppie sono formate da due individui che restano tali, ovviamente è giusto che restino ognuno con la propria personalità, ma non sempre c'è lo sforzo poi di coniugarsi, di mettersi insieme e nell'ambito di alcune famiglie poi anche la presenza dei figli viene vissuta in questo contesto di isolamento, di individualismo, in cui appunto prevale l'idea che il singolo soggetto si costruisca secondo i propri desideri, secondo le proprie voglie, che diventano un assoluto. E se ognuno persegue soltanto i propri desideri, è evidente che poi si fa fatica a mettersi insieme. Da qui, dice il Papa, deriva una crescente incapacità di donarsi all'altro, cioè di amare sostanzialmente, con il conseguente aumento delle persone che vivono da sole, i cosiddetti single, o che di fatto convivono senza coabitare, cioè senza un impegno, una responsabilità di costruire poi un progetto. Mi viene in mente da questo punto di vista l'analisi lucidissima fatta da un autore contemporaneo che si chiama Zygmunt Bauman, il quale parla di amore liquido, di relazioni liquide sul piano specialmente affettivo. Che significa che le relazioni affettive sono liquide? Significa che non sono solide. Significa che sono relazioni, qualche volta perfino consumistiche, usa e getta. E il Papa lo scriverà anche in questo capitolo. Per esempio, al numero 34, il Papa scrive che si interpretano le relazioni proprio così come a volte si interpreta la propria cultura ambientale, ecco, al numero 39, scusate, il Papa Francesco dice si trasferisce alle relazioni affettive quello che accade con gli oggetti e con l'ambiente. Tutto è scaricabile, tutto è scartabile, scusate, ciascuno usa e getta, spreca e rompe, sfrutta e spreme finché serve e poi addio. Il linguaggio è sempre un po' colorito quello di Papa Francesco, ma è particolarmente efficace. Cioè, questo già è deleterio se accade con gli oggetti e con l'ambiente, no? Tu spremi, usi e poi getti. Ma è ovviamente del tutto inaccettabile se accade con le persone. Spremi, usi e poi getti. Che cosa? Una persona, una persona che dici di aver amato o forse non dici neanche di averla amata. Devi essere onesto e devi dire che l'hai usata. È evidente che quindi dall'esasperato individualismo che pervade la cultura contemporanea ne deriva una grossa incapacità di amare, cioè di donarsi all'altro, di costruire con l'altro un progetto. Amore liquido, dice Bauman, quindi amore non impegnativo e quindi sostanzialmente non amore. Perché l'amore richiede un impegno morale, una volontà di costruire un progetto, un'assunzione di responsabilità. Dove tutto questo non c'è, beh, non c'è neanche l'amore. C'è soltanto, come dire, la ricerca del piacere individualistico, soggettivo. A parole si dice ti amo, ma in realtà si potrebbe dire mia amo usando te, ma io amo soltanto me stesso e forse, forse, forse neanche me stesso poi a lungo andare. Spero così di essere riuscito a farvi comprendere tutta la densità, la ricchezza di questo primo nodo problematico che il Papa ravvisa nella cultura di oggi e che è appunto questo esasperato individualismo che pone l'accento sulle esaltazioni, per così dire, dei desideri individuali assunti come assoluto. Su questa base, scrive il Papa, la famiglia può trasformarsi in un luogo di passaggio al quale ci si rivolge quando pare conveniente per sé o dove si va a reclamare diritti mentre i vincoli rimangono abbandonati alla precarietà volubile dei desideri e delle circostanze. numero 34 dell'Amoris Laetitia. Quindi la famiglia come semplice luogo di passaggio, la famiglia pervasa dalla precarietà, la famiglia nella quale si reclamano soltanto diritti e invece non si assolvono doveri o non si assumono doveri perché tutto è poggiato, scrive Papa Francesco, sulla realtà volubile dei desideri e delle circostanze. Anche questa mi sembra una fotografia molto fedele di quello che accade nella nostra realtà di oggi. La famiglia di oggi, perciò, e siamo al numero 39 di questo secondo capitolo, risente della cultura del provvisorio. E questo è un secondo punto, mi sembra particolarmente ricco. La cultura del provvisorio per la quale, scrive Papa Francesco, le persone passano rapidamente da una relazione affettiva all'altra credendo, attenzione a queste parole del Papa, che l'amore, come nelle reti sociali, nei network, nei social network, si possa connettere o disconnettere a piacimento del consumatore e anche bloccare velocemente. Mi sembra che questa immagine ripresa dalla cultura del digitale, dalla diffusione dei social network, sia particolarmente, come dire, suggestiva e impressionante nello stesso tempo. Così come tu, connetti o disconnetti, premendo un tasto, la tua relazione con gli altri, quale avviene nella chat, nel social network, così puoi connettere e disconnettere la tua relazione affettiva a tuo piacimento. Sì, da questo punto di vista, ecco, praticamente, la cultura del provvisorio non aiuta a costruire famiglie solide, famiglie stabili, famiglie che siano veramente famiglie fondate su un legame unico, indissolubile, duraturo. È evidente che al fondo di queste concettualizzazioni, l'individualismo esasperato, la cultura del provvisorio, e quindi la precarietà, a mio avviso c'è un concetto che va precisato. E qual è il concetto che va precisato? Direi che, in sintesi, il concetto è questo. Oggi si pensa che la libertà individuale sia sganciata dalla verità. Cioè, mentre il Vangelo, in Giovanni 8,32, ci dice la verità vi farà liberi, la verità vi farà liberi, la cultura contemporanea, pervasa dal provvisorio, dall'individualismo, eccetera, ci sembra dire la libertà vi farà liberi. Ma la libertà intesa come spontaneismo, la libertà intesa come scelta individualistica, la libertà intesa come negazione di verità oggettive, di verità universali, di verità, cioè, vincolanti per tutti. La cultura di oggi sembra dire non ci sono verità assolute, ci sono soltanto verità relative, ci sono sostanzialmente le opinioni, la mia, la tua, la sua, ognuno ha ragione e quindi nessuno ha torto. Certo che in questo quadro nessuno, per esempio, pecca, perché se tutti hanno ragione i peccati non li fa nessuno. Se ognuno dice secondo me è giusto così o io debbo agire secondo quello che sento, se mi sento così faccio così, e chi pecca più? Non pecca più nessuno. O il confronto cioè con verità oggettive universali, o la libertà diventa scelta spontaneistica dei singoli e scelta spontaneistica che non ha alcun fondamento valoriale. Già il filosofo Jean-Paul Sartre si poneva in questa prospettiva, no? La prospettiva di negare un fondamento di valore e quindi di negare l'esistenza di verità assolute. ecco, io credo che sia forse un po' complicato quello che ho detto ma spero che sia utile perché il Papa poi lo riprende e dice che lo sganciamento da una verità oggettiva porta a distruggere l'ideale del matrimonio perché fa leva soltanto su ciò che conviene contingentemente, su ciò che conviene qui ed ora e sui capricci della sensibilità altra espressione di Papa Francesco la conclusione è ovvia dice il Papa al numero 34 si teme la solitudine si desidera uno spazio di protezione e di fedeltà ma nello stesso tempo cresce il timore di essere catturati da una relazione che possa rimandare il soddisfacimento delle aspirazioni personali da un lato si teme di restare soli perché comunque l'uomo è chiamato alla relazione alla comunione al dialogo d'amore dall'altro lato però si fa fatica a reprimere quelle che potrebbero essere le proprie legittime aspirazioni personali sacrificandole per il bene della famiglia e questa è una difficoltà anch'essa oggi molto presente nella nostra cultura concludo dicendo che al numero 41 Papa Francesco offre a mio avviso una chiave di lettura di queste sfide che la cultura di oggi pone al matrimonio e alla famiglia e la chiave di lettura è che c'è oggi una affettività narcisistica notate che espressione densa un'affettività narcisistica instabile e mutevole che non aiuta i soggetti a raggiungere una maggiore maturità affettività narcisistica significa sostanzialmente amare soltanto se stessi in un clima di egocentrismo e di egoismo autocontemplarsi e quindi essere incapaci poi di donarsi all'altro di accogliere l'altro nella sua ricchezza per oggi ci fermiamo qui e naturalmente ci diamo appuntamento a una prossima puntata arrivederci a una prossima puntata a una prossima puntata